Ciao, sono Ariana Galletti e sono un'attrice, cantante e ballerina italiana. Sono nata e cresciuta a Roma, dove mi sono formata sia nel canto, sia nella danza, sia nella recitazione, con insegnanti privati a partire dall'età di 7 anni. A 18 anni ho cominciato a lavorare nel mondo del teatro musicale come musical performer, prendendo parte a diverse produzioni sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Attualmente vivo a Londra, dove sto continuando a studiare e a lavorare e dove sto prendendo sempre più consapevolezza della lingua inglese che parlo fluentemente sia con accento british sia con accento general american. Parlo inoltre anche spagnolo e conosco qualche base di tedesco. Tra le mie skill aggiuntive, oltre al canto e alla danza ovviamente, che fanno parte integrante della mia professione, troviamo il patinaggio sul ghiaccio che ho praticato a livello agonistico per 4 anni, il cerchio aereo, qualche base di acrobatica e il pianoforte che ho studiato per 4 anni. Ora vi mostro i miei profili e le mie mani.